Ok, ok ragazzi, ciao, buongiorno a tutti dal Giappone. Sto per andare a Ninenzaka per farvi vedere un po' come la via più famosa di Kyoto. Ma prima di andare, che porta poi al tempo, prima di andare volevo farvi vedere la salata famosissima per le esibizioni delle geisha. Infatti qui si alternano uomini di affari, ministri, gente importante, ma anche semplici persone che magari hanno voglia di farsi vietare dalle danze e dalle arti sublimi delle geisha. È un po' difficile beccarne qualcuna, però cercherò di beccarla. Questa casa che sta qua dietro è proprio quella famosissima, quella storica di Kyoto. Ok, ve la quadro un attimo. Ok, ragazzi, mi sto dirigendo verso Ninenzaka allora. Vi faccio vedere... oddio, c'è un sacco di cose da mostrarvi, quindi niente parole, andiamo e ve le faccio vedere. Farò un bel po' di video. Si va, ciao! Vien d'avui! Questa è un bel po' di video! Il mondo è un bel po' di video! È un bel po' di video! Questa è un bel po' di video! Sì, manca. La storia è un bel po' di video. questo ragazzi è il teatro principale di Kyoto dove si esibiscono fra l'altro anche le riesce spettacoli stupendi ragazzi ed è anche un museo ragazzi anche un museo dove ci sono mosse permanenti e noi come vedete fanno anche rispetto a quelli burattini grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.